Inizialmente sì, mille pensieri, nel senso che c'è nuova alimentazione, nuovo stile, cambiare completamente lo stile di vita nel mangiare e tutto. L'inizio io personalmente me lo aspettavo complicato, complicato nel senso che appunto cambiare radicalmente il piano alimentare, queste cose me lo aspettavo un po' complicato, però una volta che ci sei dentro è fattibilissimo. È fattibilissimo perché tante piccole cose, te ne dico una, quando prima mangiavo e ogni tanto avevo fame, no? Sì. Invece col tuo piano, con la base dei pasti, diciamo, rateizzati, mettiamolo giù così, non avevo mai fame, quindi riuscivo tranquillamente a fare questa cosa. Una cosa che è stata molto differente, anche dalle altre dietro che ho seguito, è stato il fatto che non dovevo pesare il cibo, cioè star lì a fare tutte le porzioni precise precise. Questo è anche molto comodo, anche per chi come me è turnista. ero andato in palestra prima, avevo fatto sempre degli esercizi, ma mai, non so, cioè nel senso, come me li fai fare tu è completo. Mi sono accorto, dopo tutto questo percorso, che è completo a livello proprio di corpo e più in piano vedi sempre dei miglioramenti progressivi. Invece prima magari vuoi perché mi allenavo male, vuoi che non avevo una guida, cose così, perché era più una perdita di tempo che andare in palestra per migliorarsi, ecco. Grazie.